8 comuni, una diocesi ed oltre 20 strutture museali dell'Alto Tevere Umbro, insieme nel nome di Signorelli. E' stato firmato martedì 28 marzo a Città di Castello il protocollo d'intesa del progetto La Valle dei Signorelli, che permetterà di visitare 11 opere del pittore e scuola con un biglietto ridotto dal 1 aprile, giorno dell'inaugurazione, fino a dicembre 2023. Progetto inedito fra Rinascimento e Arte Contemporanea, grazie alla presenza nel circuito dei Musei Burri a Città di Castello. Tra la fine del 400 e l'inizio del 500, in questa parte dell'Umbria Nord, che comprende gli otto comuni, vale a dire Città di Castello, Umbertede, San Giustino, Citerna, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, Eliciano, Niccone, si muove Luca Signorelli. Proprio La Valle dei Signorelli è una mostra di vallata che abbraccia le opere prodotte dall'artista e dalla loro influenza sui committenti, tra cui La Pala di San Sebastiano, Il Ciclo di Affreschi, La Deposizione nella Chiesa di Santa Croce a Umbertede e tante altre opere della scuola di Signorelli, che si trovano nel Duomo a Citerna a Castello Bufalini di San Giustino a Montone. Oltre ad un biglietto agevolato per la mostra di vallata, nel 2023 l'Alto Tevere proporrà un calendario congiunto di animazioni culturali, rievocazioni storiche, eventi ispirati alla figura di Luca Signorelli. L'Alto Tevere Umbro fu infatti una seconda patria per quest'autore, dove ebbe prestigiosi committenze di cui sono le espressioni le undici attestazioni rimaste nel territorio in cui furono realizzate.